ma parliamoci chiaro lo sappiamo lo sappiamo che non che non ha la bacchetta di harry potter tiago morta sapevamo che quei due 3 a 0 non sarebbero potuti essere un 3 a 0 perenne va bene tutto e va bene lo 0 a 0 con la roma l'empoli comunque oggi ha giocato corno e tutto però neanche così no perché allora io continuo a dire diamo tempo a tiago morta e tutto e va bene e va bene però però non possiamo neanche tirare con l'empoli cazzo non tirare con l'empoli no perché allora io cup maynes voglio bene quello che vuoi ma la prima e va bene la seconda vai a fare in culo cup maynes uguale allora blauvic io io non ti voglio criticare che però che mi eroti i coglioni non ti voglio c'è davvero io io mi caso anche quando fai gol spiro con tutto il mio cuore che potrai diventare un grande attaccante che mi eroti i coglioni però fai cagare fai ti fotti 3 4 no la partita mi eroti i coglioni buona e togliete la 10 a quel cadavere di hildiz mamma mia che giocatore inutile pensare che abbiamo dato via chicco mio per la 10 a lui qua per l'amore del cielo è giovane forse sono io non lo so a me mi fa cagare sto il dice rega ditemi che mi sbaglio ditemelo scrivete cosa ne pensate a me fa cagare monumentario salvo gatti e poi cup maynes lasciando i due tiri comunque non ha giocato male come si ha giocato bene però cup io da te voglio i gol io da te ho bisogno dei gol dagras luiz oggi abbiamo capito che è un gioco titolare che è oggi inguardabile hildiz e vlaovic dagras luiz inguardabili nico gonzalez inguardabile gatti monumentale c'è gatti ha fatto un cambiamento giorgio chiede lini 2.0 e oggi lo diciamo perché se oggi c'era 0 ringraziate gattone nazionale capi il capitano il capitano no come si fa rega io voglio bene però è che capite che io rega io ce l'ho qua rega rega è che io ce l'ho qua io aspetto aspetto dopo un po' vi scazzo tutti quanti però eh perché aspetti aspetti che cazzo su non è possibile così dai oh vi svegliate con empoli cazzo con empoli non li prendi più quelli lì davanti non li prendi più quelli lo sapi sono i più forti gli devi stare attaccato non gli puoi dare dopo quattro giornate due punti ce lo mettono nel culo se no cazzo mi è nervoso niente martedì c'è la champions oh ascoltate è un anno che non andiamo in champions non voglio sapere a cambi allenatori martedì dovete giocare a calcio perché se no martedì escono i piatti mi incazzo come una bestia a calcio giochiamo ma è martedì ve lo dico Tiago Motta ti amo lo sai però anche a te avviso eh vedi di non far cazzate martedì eh vi sto avvisando l'index dice uomo salvato uomo avvisato mezzo salvato a tutti eh ve lo dico grande è che cambiasi è che cambiasi ho giocato bene cazzo ah io dici io ti voglio bene però a questo punto vai a fare in culo il primavera perché non sarebbe un cazzo non sarebbe un cazzo ah che nervoso va dai iscrivetevi al canale va dai c'ho di coglioni girati c'ho grazie